buongiorno allora io mi presento sono Lorenzo Bonechi responsabile scientifico di questo progetto e insieme all'assegnista Tommaso Beni presentiamo rapidamente quello che è stato la nostra attività per questo progetto e vorremmo iniziare con una breve introduzione sull'ambito di fisica in cui si colloca il progetto che magari non è una cosa in cui molti hanno pratica quindi dopo questa breve introduzione vi faremo vedere un po' quello che è stato il progetto in maniera estremamente sintetica in collaborazione con Tommaso quindi lascerò una parte della presentazione a lui mentre ora vorrei partire da questo ambito di ricerca che stiamo conducendo a Firenze nell'ambito della radiazione cosmica allora i raggi cosmici che sono l'oggetto diciamo che utilizziamo per fare per fare le misure nell'ambito di questo progetto sono una radiazione naturale che viene generata all'interno della nostra galassia in eventi esplosivi catastrofici e che poi si diciamo si propaga nello spazio interstellare può magari propagarsi per milioni di anni in piccolissima parte arriva sulla terra questa radiazione è costituita da particelle elementari protoni elettroni nuclei atomici e quando questi arrivi siccome arrivano con altissima energia quando questi penetrano nell'atmosfera collidono con il gas atmosferico con le molecole del gas e producono degli sciami di particelle secondarie quindi ora qui nella in questa figura si vede in maniera molto stilizzata un raggio cosmico che produce un uno sciame atmosferico e questo sciame atmosferico è a sua volta costituito da molte particelle elementari possono essere migliaia in una singola collisione e queste si propagano nell'atmosfera in parte arrivano fino a terra tra quelle che arrivano a terra le particelle più abbondanti che portano carica elettrica sono i muoni nella colonna di destra ho messo un po di dettaglio su quello che è il muone sostanzialmente il muone è una particella molto simile a un elettrone quindi chiaramente non ne sapete molto però è una particella che è più pesante dell'elettrone quindi il muone ha una grande energia quando è quando si propaga in atmosfera ha una massa molto grande riesce ad arrivare a terra e penetra facilmente all'interno dei materiali questo lo rende uno strumento molto potente per poter fare delle radiografie analogamente a raggi x noi usiamo i muoni per fare radiografie di oggetti molto grandi anche di montagne quindi da da oggetti di spessore di qualche metro fino a centinaia di metri di roccia che muoni con maggiore energia riescano a penetrare fino a centinaia di metri di roccia allora non ho messo il video ma ho messo questa figura che fa vedere in uno strumento che abbiamo al polo scientifico al sesto fiorentino come visualizziamo le tracce di questi proiettili che ci arrivano dall'alto va bene dall'alta atmosfera questo invece è una rappresentazione di uno sciamme atmosferico completo quindi dalla dalle zone alte dell'atmosfera fino ad arrivare alle nostre città quindi queste migliaia di particelle il muone che vediamo qui è qua giù in fondo va bene uno degli stadi finale di questo sviluppo degli sciami i muoni li studiamo in laboratorio questo è un laboratorio presso l'istituto nazionale di fisica nucleare dove il lavoro a sesto al polo scientifico questo è uno strumento uno spettrometro magnetico che utilizziamo per studiare le caratteristiche di questa radiazione la conoscenza delle caratteristiche di questa radiazione ci permette poi di utilizzarla appunto per fare queste radiografie e gli ambiti di applicazione sono vari abbiamo ambiti di applicazione nelle centrali nucleari in ambito industriale per la radiografia di grosse strutture a livello industriale tipo nelle acciaierie in ambito archeologico in ambito minerario andando a porre strumentazione all'interno di siti sotterranei a Firenze abbiamo molti progetti in corso quindi Mima Sites è il progetto in oggetto di questo l'oggetto di questa discussione si inserisce in questo ambito di un ampio ambito di ricerca quindi abbiamo un programma di misure molto vario in diversi ambiti qui ho fatto un breve elenco e il nostro gruppo diciamo non esiste nulla di commerciale in questo momento quindi il nostro gruppo sviluppa avendo competenze nell'ambito della fisica subnucleare quindi nella rivelazione di particelle sviluppa la strumentazione qui vedete tre esempi di tre rivelatori diversi questo è quello più piccolo che abbiamo sviluppato qui è stato installato per una misura di prova sul domo di Firenze e poi abbiamo qui due altre applicazioni una legata a Mima Sites quindi una installazione all'interno della miniera del Temperino a Campiglia Marittima e una nel tunnel di ispezione della diga di bilancino quindi ora verrei più nel dettaglio al progetto Mima Sites che è un progetto diciamo il cui scopo è quello di validare questa metodologia in ambito geologico diciamo archeo minerario e per la precisione perché siamo in un ambiente che è una miniera però che ha origini etrusche quindi mette insieme i due aspetti quindi vi facciamo vedere un attimo qual è il team che si è occupato di questo progetto il team è elencato qua su è multidisciplinare ci sono fisici ci sono geologi e ci sono archeologi qui in basso una foto soltanto del gruppo più legato alla fisica quindi il gruppo che lavora al polo scientifico a Sesto gli attori del progetto non sono moltissimi li ho elencati qua ovviamente la regione toscana perché ci ha permesso di poter inserire all'interno del nostro team di fisici anche un geologo questa cosa è molto importante perché noi vogliamo far migrare questa metodologia verso gruppi multidisciplinari e i geologi sono uno dei punti chiave di questo di queste applicazioni il soggetto proponente all'istituto nazionale di fisica nucleare in stretta collaborazione col dipartimento di fisica e astronomia l'operatore della filiera culturale la parchi val di cornea è la responsabile la dottoressa brocchini che è qui presente e un partner di progetto importante ovviamente il dipartimento di scienze della terra dell'unificio gli obiettivi ve li ho già detti erano quelli di in parte ve li ho detti di validare questa metodologia per poter fornire informazioni rilevanti al componente di geologi o di ingegneri per fare delle valutazioni di sicurezza di siti sotterranei quindi questo è un ambito di applicazione che abbiamo reputato potesse essere interessante il sito di misura appunto è vicino a Campiglia marittima sotto questa collina si sviluppa la minera del temperino questa galleria di cui qui vedete nell'immagine in alto a destra un rilievo fatto con un laser scanner in collaborazione con il dipartimento di scienze della terra di unifi e vedete anche indicati i punti di installazione della strumentazione muografica che sono queste 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 sfere rosse che vedete forse male sulla figura e quindi abbiamo fatto sette misure diciamo le zone di interesse per questo progetto sono state questa zona qua queste cercate in bianco in cui nel percorso turistico in questa miniera è aperta al pubblico si è osservato una presenza anomala di gas radon e quindi l'idea era di valutare la struttura della diciamo della collina nella parte al di sopra della galleria per vedere eventuali zone cavità o materiali densi che potessero spiegare questo gas e questa zona invece è stata la prima che abbiamo preso in considerazione per validare la metodologia per ricostruire delle cavità all'interno di uno strato roccioso di diverse decine di metri di profondità questa è una cavità che abbiamo studiato ci ha lavorato prima persona di letta borselli che è un'altra nostra assegnista e che è qui presente e qui vedete alcune delle installazioni che abbiamo fatto all'interno della miniera uno dei primi problemi che abbiamo affrontato è stato quello dei rilievi della superficie quindi noi per diciamo per mettere in atto questa metodologia abbiamo bisogno di una descrizione precisa della superficie della collina abbiamo iniziato con un dtm della regione con precisione 10 metri che non era sufficiente non conteneva tutti i dettagli che ci permettessero poi di studiare la struttura della collina all'interno siamo poi passati a un secondo dtm con precisione un metro ottenuto dal ministero e poi abbiamo integrato questi dati anche con dei rilievi laser laser scanner fatti sull'esterno della collina qui si vede un attimo di questa di queste misure fatte in collaborazione con scienze della terra diciamo questa attività preliminare ci è servita poi per analizzare i dati grafici presi con la nostra strumentazione ed arrivare a dei risultati interessanti per esempio nella ricostruzione di cavità quindi identificazione e ricostruzione in 2d e in 3d delle cavità non è una cosa banale perché bisogna andare a trovare delle cavità all'interno di spessori di roccia di 50 100 metri quello che vedete in queste figure sopra è una mappa sono due mappe angolari bidimensionali della densità media del terreno vista dal punto di installazione dello strumento quindi guardando verso l'alto verso il cielo questo è quello che ricostruiamo in termini di densità media nelle diverse direzioni e ci sono delle zone queste più gialle che sono zone di bassa densità che non è spiegabile con i materiali presenti in questo sito quindi queste vi sono messe in relazione a delle cavità e siamo riusciti a determinare lo spessore dell'ordine dei 10 metri di queste cavità questo ci ha permesso poi di fare delle ricostruzioni tridimensionali qui vedete il laser scanner della della galleria e una ricostruzione 3d di una di queste cavità nella zona dove è stato osservato il radon una tecnica analoga l'abbiamo utilizzata invece per trovare filoni ad alta densità quindi si sperava di trovare oro poi non so se ce lo troveremo mai ma insomma abbiamo trovato un filone di materiale denso e ci hanno lavorato di letta e tommaso in prima persona come persone diciamo cardini di questa analisi e questo qui è stato ricostruito in tre dimensioni qui vedete delle ricostruzioni che ora sono pubblicate riferimenti sono alla fine della presentazione a questo punto io da qua lascerei tommaso presentare più nel dettaglio non vorrei non vado oltre nel dettaglio di queste immagini comunque interessante è stato fin da subito vedere l'orientamento di questa ombra di questo snatch body l'abbiamo chiamato così arricchito poi in ferro e rame ma vado direttamente al dunque per non dilungarmi dato il poco tempo i risultati di questo di questo progetto si sono indirizzati principalmente al tema della sicurezza per le attività in sotterraneo che possiamo rappresentare con queste due colonnine parallele il monitoraggio del radon e quindi la circolazione interna dello stesso per motivi di sicurezza perché sappiamo ci sono delle norme che regolamentano appunto il livello tollerabile o meno di questo gas all'interno soprattutto di attività turistiche e sulla destra quel che concerne la stabilità dell'ammasso roccioso partiamo dalla sinistra il gas radon è presente principalmente in aree dove ci sono rocce metamorfiche ma soprattutto igne intrusive effusive come l'area della miniera del temperino qui vedete una planimetria con le geologie locali dove vedete il porfido in giallo e rosso il marmo della roccia incassante lo scarne che invece è la roccia metamorfica che accoglie tutto il giacimento in basso vedete uno dei momenti di monitoraggio insieme al gruppo della miniera e sulla destra invece potete vedere per quanto riguarda la stabilità dell'ammasso roccioso interventi passati di messa in sicurezza della volta in particolare al contatto tra lo scarne e il marmo che sono i contatti che possono portare a problematiche di tipo di stabilità principalmente rocce con caratteristiche diverse con fratturazione differente che possono facilitare distacco di blocchi o cunei sulla volta non solo cavità antropiche all'interno della miniera ma molti geodi la macro porosità dello scarne è caratterizzata da grossi vuoti che in parte sono stati riempiti da questo porfido mafico rosso in parte sono rimasti vuoti quindi la conoscenza delle cavità la loro ricostruzione 3d e la localizzazione può servire per cose che adesso vediamo dopo questa slide quindi per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza per la circolazione del gas radon qui vedete una sezione della collina in cui vi si mostra una sezione bidimensionale di quello che in realtà è un cono di densità che si ricostruisce dal punto di misura come vedete le aree rosse identifiano densità medie lungo quelle direzioni maggiori rispetto a quelle gialle come vedete la corrispondenza tra le cavità sia note che non note abbiamo ricostruito e le densità minori e invece densità maggiori ora qua non fateci caso il corpo ricostruito e questo sulla sinistra hanno permesso di avere un'idea più chiara di come questo gas può muoversi quindi salire o scendere all'interno della miniera rispetto alla galleria del temperino di ciò che succede sotto non possiamo dire niente perché con questa tecnica abbiamo la possibilità di vedere ciò che abbiamo sopra o accanto ecco quindi va beh qui in alto vedete la posizione della della dello strumento rispetto a tutta la miniera del temperino il cono entro cui si può fare e dire qualcosa va beh qui c'è una mappa dell'arpat del 2010 e fa vedere piccolo piccolo il comune di campiglia marittima in realtà è uno di quelli in cui rientra una presenza di decadimenti tali che insomma non è trascurabile la presenza di radon ma non entriamo nei particolari per quanto riguarda la stabilità dell'ammasso roccioso l'ammasso roccioso è composto da roccia intatta e discontinuità che possono essere faglie fratture azioni tutto quanto il dimensionamento del dei bulloni e dei chiodi per per appunto mettere in sicurezza le aree più critiche dipende dalla conoscenza di quello che abbiamo sopra siano essi i corpi densi siano esse cavità quindi si capisce subito in un contesto come questo a parte della miniera però anche l'incassante il marmo è propenso al carcismo e quindi ci sono molte cavità alcune note ma altre no che possono raggiungere dimensioni metriche da considerare eventualmente in modellazione di stress e strain quindi sforzi e deformazioni all'interno dell'ammasso roccioso ora quello che vedete qua è giusto uno schematto per dare un'idea di noi conoscevamo solo questa cavità ma attenzione MIMA ci ha permesso di ricostruire questa e anche questa e chissà magari anche questa questa e questa come variano gli sforzi e gli strain all'interno di questa struttura bastano i chiodi e i bulloni che sono stati utilizzati fino ad oggi magari per il futuro possiamo inserirli e considerarli questi dati di MIMA per una gestione più più sicura dell'interno non andiamo nel particolare ma se vogliamo andare nel particolare venite il 28 giugno alla miniera del temperino in particolare nel parco arc minerario di San Silvestro perché ci sarà la presentazione ufficiale di quelli che sono i risultati legati al progetto MIMA Sites quindi partiremo dalla geologia per arrivare fino alle pubblicazioni scientifiche pubblicate appunto raggiunte e non solo per essere ligi con quello che è il progetto insieme al bando della regione toscana il museo predisporrà un nuovo allestimento permanente basato sui risultati che presenteremo e che ora stiamo accennando quindi un trasferimento diciamo tecnologico al pubblico un trasferimento a quelli che saranno i visitatori della miniera tanti enti tante persone ringraziamo velocemente l'NFN di Firenze che appunto sono impersonati qui da il responsabile scientifico Lorenzo Bonechi e me come assegnista poi il parco della Val di Cornea quindi l'OFCC di questo progetto i dipartimenti di fisica astronomia e DST quindi dipartimento di scienze della terra dell'Università di Firenze regione toscana vabbè al centro perché se no non ci sarebbe stata l'opportunità di questo assegno e l'istituto di geoscienze e georisorse per le conoscenze geologiche locali precise del temperino questi sono i due articoli fondamentali di Letta Borselli per quanto concerne la ricostruzione delle D e gli algoritmi a questo relativi delle cavità e invece per i corpi densi Tommaso Beni e questi sono i due principali anche se ci sono presenti presentazioni a congressi e convegni che non si sono inserite grazie mille 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 grazie mille